Buongiorno, qui è la strada reale dei vini torinesi e ho potuto raccontare oggi, grazie alla Camera di Commercio, dei tesori nascosti. Cosa sono questi tesori nascosti? Innanzitutto sono giacimenti enogastronomici, chi viene al Salone del Gusto sicuramente è alla ricerca di quello, però sono permanenti. Pensate che a pochi minuti dal centro città, 20 minuti è la cantina più vicina, avete un sacco di opportunità, per esempio domani, che domenica si vendemierà a Cinzano con la famiglia Rossotto o la prossima settimana a Villar Basse, il sabato pomeriggio ci saranno una camminata tra le vigne, si vedranno due cantine storiche di cui una con ancora i pavimenti in terra battuta e con dei tunnel che partono sotterranei nella campagna, quindi adatto adulti e bambini, oppure il giorno dopo una camminata enogastronomica. Ma se vogliamo continuare ci sono mille opportunità, da il vino del ghiaccio alle degustazioni di metodi classici nel canavese di erbaluce, al vedere i castelli e le dimore storiche tipo il castello di Masino, cioè la strada reale è un'opportunità per tutto ciò che riguarda l'arco alpino e le colline vicine alla città di Torino. Ricordatevi che a pochi minuti ci sono delle esperienze indimenticabili. Andate sul nostro sito strada reale dei beni torinesi e troverete ogni dettaglio, oppure iscrivetevi alla newsletter. Ciao!